Nessuno capisce le donne di Dallas? Dottor T... Che succede? Meglio del dottor Sullivan Travis. Anzi, sei in forma smagliante, Dorothy. Te l'ha detto nessuno ultimamente? Tu... Voi non capite le donne. Sarò la più brava patiente in menopausa che lei abbia mai avuto. In ogni donna che ho conosciuto ho sempre trovato qualcosa di particolare. Se un ginecologo dice che non ce ne sono due uguali, significa che non ce ne sono due uguali. Ma quando si tratta delle donne della sua vita? Due figlie, una di loro si sposa e l'altra è un po' gelosa. Le cose si fanno più complicate. Hai un secondo, devo parlarti di una cosa. Vorrei parlare con mio padre. Vorrei parlare io un secondo, adesso devi farmi passare. Vietale di sposarsi. Ehi, Dottor T, le puliedre scalpitano. Queste danni mi stanno. È una cosa folle, dico io. Salute. A te. Sei sempre così brava? Quando serve sembra di sì. Il che vuol dire sempre, vero? Tu sei più particolare di qualsiasi donna abbia mai conosciuto. Vieni, andiamo via, vieni, dai! Voglio che scappi insieme a me. Brie Davis per il Dottor Travis. Tutte qui sono per il Dottor T. Il Dottor T e le donne. Vieni, andiamo via, vieni, dai! Vieni, andiamo via, vieni. Vieni, andiamo via, vieni, dai! Vieni, andiamo via, vieni.